Fuoco di Sant'Antonio, come venirne a capo? È Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video e prima di tuffarci in questo argomento che sta a cuore a molte persone lasciami un segno del tuo passaggio, lascia un like, un commento, condividi questo video iscriviti al canale, perché? Perché sempre più persone possano trarre beneficio da questa conoscenza come vedi non ho il camice bianco, ho una camicetta marrone e perché non sono un medico, semplicemente quello che faccio è che ti riporto una conoscenza che proviene da diversi luoghi nel mondo e che è stata estremamente utile per tante persone ti parlo dell'antica conoscenza dei Veda in India quindi maestri dell'India, maestri straordinari che ci sono in Occidente e saggi sciamani del mondo della foresta amazzonica per me è un piacere condividere quello che ho appreso girando in giro per il mondo e sono sicuro che insieme possiamo fare qualche cosa di straordinario oggi la tecnologia ci dà numerose risorse i social, questi video che possono essere fatti, condivisi pensa che è bello, no? che possono essere condivisi condivisi in maniera estremamente rapida affinché sempre più persone possano stare meglio più rapidamente allora, la malattia arriva per insegnare un qualche cosa ok? e dobbiamo capire che ci sono tre livelli diversi c'è un livello in cui si manifesta la malattia un livello fisico un livello mentale e un livello emozionale che può essere compreso da un punto di vista spirituale quindi tu puoi sanarti a livelli diversi infatti, che cosa succede? ti rendi conto di questi livelli quando vedi come si muove la malattia specialmente determinate questioni topiche ok? come può essere il fuoco di Sant'Antonio che magari una volta è di qua una volta è da un'altra parte perché? perché a volte si cerca di risolvere da un punto di vista fisico con delle pomate, delle creme una problematica che si manifesta in una zona del corpo però non hai risolto da un punto di vista mentale o non hai compreso da un punto di vista sperimentale quello che la tua anima sta cercando di comunicarti ed ecco che è una roba da una parte spunta poi da un'altra parte quindi è bene conoscere i vari livelli e proprio su questi livelli andrò a darti alcune indicazioni allora da un punto di vista topico sicuramente l'utilizzo di alcuni oli quindi spalmarsi gli oli gli indiani in questi sono straordinari li vedi sempre che sono pieni di oli anche i miei capelli come vedi sono pieni di olio perché mi cospargo con oli ayurvedici ok? è proprio una caratteristica del mondo indiano quello di utilizzare l'olio in questo caso puoi utilizzare dell'olio degli oli essenziali di eucalipto di tea tree oil e di camomilla per alleviare questo bruciore questo ardore un'altra cosa straordinaria che puoi fare è quello di fare dei bagni nella vena ok? puoi utilizzare l'aloe vera l'aloe vera la puoi utilizzare sia a livello topico e la puoi utilizzare anche da ingerire, da bere ed è straordinaria l'aloe ha delle proprietà incredibili proprio a livello dermico quindi puoi trarre grande beneficio anche dall'aloe vera ci sono altre due piante una da bere che è la genziana e l'altra è la mamelide che puoi utilizzare da un punto di vista topico anche queste sono delle piante straordinarie che ti aiuteranno a alleviare la parte collegata al bruciore a livello topico ti ho parlato dei... mi sono preso degli appunti perché non voglio dimenticarmi nulla perché è un argomento importante e ti ho parlato prima dei bagni dei bagni con l'orzo è un po' complicato a dire il vero con il bagno d'orzo quindi puoi magari metterti l'orzo dentro delle specie di teiere tutte chiuse di modo che l'orzo non vada nella vasca da bagno turi tutto quindi cerca una soluzione per immergere l'olio dentro la vasca da bagno e riuscire a fare questi bagni d'orzo idealmente dovresti utilizzare acqua fredda ed è straordinario il potere di farsi il bagno freddo o la doccia fredda otterrai dei grandissimi benefici allora, questi sono dei rimedi che vengono consigliati dagli antichi yogi nell'India da sempre servono sia per migliorarsi da un punto di vista fisico perché la doccia fredda ha degli effetti benefici straordinari sotto tanti punti di vista però è anche utile da un punto di vista spirituale perché è un po' un sacrificio fare la doccia fredda soprattutto in inverno certo, se sei in Sicilia d'estate la doccia fredda è una doppia libidine con i fiocchi tuttavia, se ti trovi in Trentino Alto Adige d'inverno in montagna non è così divertente fare la doccia fredda non è divertente per la mente però ti dico una cosa per esperienza è una questione di pratica è pratica, pratica, pratica tu vedrai che c'è la mente che inizia a tribolare a dire no, ma perché la doccia fredda? eccetera, eccetera, eccetera ti do delle indicazioni sulla doccia fredda uno, inizia mettendo le mani sotto l'acqua ok, poi le braccia ok, poi l'altro braccio poi la faccia poi le gambe, i piedi e dopodiché vai con il corpo non andare subito di botta con il corpo l'altra cosa è che il mondo della Yurveda sconsiglia di bagnare la testa con l'acqua fredda soprattutto in inverno ok suggerisce di bagnare principalmente il corpo con l'acqua fredda non la testa e ovviamente se sei in una situazione dove magari hai un po' di mucco hai un raffreddore, eccetera evita di fare la doccia fredda cerca di stare invece al caldo in quella condizione però in condizioni normali cerca di iniziare a prendere questa nuova abitudine a prescindere dal fuoco di Sant'Antonio anche quando sarai uscito da questa situazione quando sarai uscita da questa situazione continua con questa pratica io ti sfido ti sfido a utilizzare questa pratica perché è straordinaria oggi viene divulgata questa teoria antica degli antichi Veda degli antichi maestri dell'India della doccia fredda viene divulgata da Hoffman che è un signore straordinario olandese credo che sia credo che sia nato in Olanda e divulga questo metodo per aiutare sempre più persone a stare bene quindi questo è sicuramente un qualche cosa che ti può fare tanto 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 bene quindi la doccia fredda quindi oltre a fare il bagno freddo invece è il buon Hoffman che suggerisce di fare il bagno immergersi nel bagno gradatamente con i cubetti di ghiaccio ok intensa come cosa io non sono ancora arrivato a quel punto sono arrivato a farmi il bagno le immersioni nell'acqua super gelata nell'Himalaya in India quindi intensa era fredda l'acqua però non ho ancora messo i cubetti di ghiaccio sicuramente sarà qualche cosa che che mi interessa sperimentare sempre di più quindi questa è un po' il cammino però sicuramente ti renderai conto di come ti senti bene pam dopo che hai fatto una bella doccia fredda ok sentirai un benessere straordinario dopo che hai fatto la doccia fredda nel frattempo qua è venuta una bestiaccia a trovarsi si vede solo il muso e via ciao 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 grande 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 a proposito di acqua fredda puoi utilizzare anche dei panni umidi freddi freschi da posizionare a uso topico nella zona dove dove senti maggiore fastidio quindi la puoi utilizzare in quel senso un'altra questione importante è l'alimentazione ok e è fondamentale alimentarsi in maniera corretta quindi fai molta attenzione a ciò che mangi ok se vuoi avere qualche delucidazione in più su come seguire una corretta alimentazione seguendo i corretti principi del mondo ayurveda puoi guardare qui nei commenti qui in basso e ti riporto alcune indicazioni che puoi seguire ancora di più perché ovviamente sono tante le cose da dire in un video non riusciamo a a sviscerare tutto completamente però ti do delle indicazioni di base per quanto riguarda l'alimentazione mangia cibi il più salutari possibili evita i fritti non mangiare fritti non mangiare tutte quelle cose che sai che non vanno bene evita evita più che puoi tutte quelle cose che sai che fanno male non te lo devo dire io quali sono i cibi che non vanno bene che danneggiano il tuo corpo tieni conto questo principio se un cibo ti toglie energia dopo che lo hai mangiato c'è qualche cosa che non va con quel cibo ok un cibo ti deve dare energia cerca di orientarti prevalentemente verso un'alimentazione vegetariana cerca di mangiare tanta frutta tanta verdura quella è sicuramente la direzione però puoi seguire tutte le indicazioni che ti riporto qui nelle note per andare a un livello successivo quindi imparare in maniera ancora più approfondita come alimentarti in maniera corretta affinché il tuo corpo ti possa sostenere e non essere di intralcio è fondamentale il nostro corpo è un tempio straordinario dobbiamo considerarlo e guidarlo come si dice in sud America e custodirlo ok e prendercene cura quindi prenditi cura del tuo del tuo tempio altra questione importante sicuramente quella di tenere a mente di fare una detox un programma detossinante trovi sempre le indicazioni nel programma di cui ti ho parlato prima quindi trovi maggiori dettagli anche su come detossinare il tuo corpo quindi puoi seguire quelle indicazioni puoi fare delle detox tranquillamente da casa tua quindi puoi detossinarti tranquillamente nella vita quotidiana tutti i giorni seguendo delle indicazioni particolari per quanto riguarda l'alimentazione oppure puoi anche decidere di fare un programma di detossinazione profondo questo è un qualche cosa che viene insegnato dagli sciamani in Amazzonia ed è una depurazione molto potente che viene fatta con il mapaccio anche in questo caso ti lascio le indicazioni per un programma depurativo con il mapaccio qui nei commenti qui sotto e questo serve a depurarti profondamente come nulla io ho provato diverse depurazioni in vita mia ma nulla è stato mai così efficace come il mapaccio è veramente qualche cosa di potente stimola il tuo sistema immunitario in maniera incredibile ti fa sentire bene tra l'altro è una depurazione prima ti parlavo della malattia che avviene sotto diversi livelli da un punto di vista fisico emozionale mentale bene il mapaccio ha questa grande proprietà che è un detossinante non solo fisico è molto intenso è per ninja fare una depurazione con il mapaccio è una roba tosta non tutti sono pronti a sperimentare questo tipo di depurazione però sicuramente se sei arrivato a un punto della tua vita dove dici basta non ce la faccio più voglio dare una svolta beh il mapaccio è un grande punto di svolta stavo dicendo ho provato diverse diversi detox nulla come il mapaccio nulla ho provato veramente tanto mi occupo di rimedi naturali da tantissimi anni non ho mai sperimentato nulla di così profondo come la depurazione con il mapaccio che avviene da un punto di vista fisico mentale emozionale ho accompagnato diverse persone in questo cammino di depurazione ed è incredibile quello che salta fuori è veramente pazzesco e questo mi porta a introdurti un altro argomento fondamentale che è che ti ho espresso all'inizio che è l'origine nella maggior parte dei casi del 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 fuoco di sant'antonio che è una rabbia repressa quindi essendo una rabbia repressa cerca di ridurre lo stress tra l'altro ho fatto un video te lo metto qui in elenco sempre di modo che tu lo possa vedere su come gestire la rabbia ok perché è importante anche questa cosa qua quindi c'è proprio un video apposta su come gestire la rabbia però sicuramente per gestire la rabbia devi andare dall'altra parte devi imparare a sviluppare la pazienza quindi medita magari magari in questo caso ancora più di altri casi è indicato è arrivato un campanello di allarme che ti dice che è arrivato il momento di meditare su questo canale trovi diverse meditazioni che puoi utilizzare però medita sicuramente ti può essere estremamente utile medita cerca di ritrovare la pace dentro te stesso dentro te stessa e questa è sicuramente una guida meravigliosa per quanto riguarda la comprensione a livello mentale c'è una donna straordinaria in Italia che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama La terapia verbale di Gabriella Mereu e io ti consiglio ti metto anche in questo caso il link ti ho detto che ti dovevo dire un sacco di cose veramente un sacco di risorse adesso non hai più scuse e quindi ti do questa indicazione di questo libro leggilo leggilo perché è veramente importante è importante perché così capisci l'origine mentale di determinate patologie che avvengono che arrivano e ti è utile ti è utile a 360 gradi ti è utile per comprenderti meglio è una lettura semplice molto efficace chiunque la può capire non è scritto in un linguaggio medico è scritto in un linguaggio semplice comprensibile per tutte le persone e ti serve proprio a capire a prenderti la responsabilità di quello che ti sta succedendo ok perché sembra che un po' che le malattie arrivano così no in realtà sono dei messaggi che hanno dei significati profondi che vanno compresi ok sempre grazie alla conoscenza di Gabriella potrai poi approfondire o comunque potrai approfondire anche in maniera personale individuale tutto il discorso correlato ai fiori di Bach e alla mappa di Kramer perché se vai su su google clicca mappa di Kramer e semplicemente cerca di capire in quale punto del corpo è emerso questo fuoco di Sant'Antonio perché il corpo come illustra molto bene Gabriella parla per metafore e quindi devi cercare di capire dove ti ti è apparso questo fuoco di Sant'Antonio e quindi a quel punto riesci ad avere una comprensione ancora maggiore grazie proprio alla mappa di Kramer è stato un lavoro che è svolto da Kramer straordinario ti invito ad approfondirlo ti ho dato tanti compiti oggi lo so però d'altronde un errore che viene fatto comunemente è quello di delegare la propria salute agli altri invece è arrivato il momento secondo me di prendere di nuovo questo potere e di prendersi la responsabilità perché è troppo facile delegare la responsabilità sempre agli altri se vuoi stare bene devi fare qualcosa ti devi mettere in gioco tu in prima persona e la tua anima ti sta comunicando qualche cosa qualcosa che tu non stai sentendo e se tu non ascolti fai attenzione perché l'anima grida sempre più forte vince l'anima fai attenzione perché se non ascolti diventa sempre più grande sempre più grosso e l'anima grida forte fai come un bambino immaginati un bambino e un adulto hai presente il bambino quando vuole qualcosa quando veramente vuole qualcosa il bambino lo ottiene e la stessa cosa vale per l'anima l'anima è un bambino e tu puoi far finta di non ascoltare i messaggi che ti dà e ti fa venire prima un fuoco di Sant'Antonio piccolino e poi più grosso più grosso più grosso più grosso più grosso più grosso e quindi fai attenzione perché non è un gioco divertente devi prenderti la responsabilità della tua salute e cercare di capire quali sono i messaggi che cosa devi imparare dalla vita come puoi migliorarti e a tal proposito un altro la comprensione massima che tu puoi avere è sicuramente quella di metterti in connessione con quel bambino di metterti in connessione con con la parte profonda di te e qui gli indiani chiamano il chakra del cuore lo chiamano il chakra del cuore e il chakra dell'intuizione del terzo occhio il sesto chakra per capire per comprendere per riuscire a capire finalmente cose che attraverso i cinque sensi non riesci a capire e qui hai due strade possibili hai due strade per sviluppare per aprire per attivare quello che è il chakra del terzo occhio che ti aiuta ad aumentare la tua intuizione attraverso un cammino indiano attraverso il cammino che insegnano i maestri indiani di attivazione della ghiandola pinneale dall'altro lato in sud america in amazzonia gli sciamani che cosa fanno utilizzano un altro metodo per attivare la ghiandola pinneale grazie all'utilizzo di piante ok attraverso quelli che loro chiamano i viaggi sciamanici e questo è un viaggio straordinario che sicuramente ti metterà qua ci sono le bestie che stanno facendo a botte che sicuramente ti metterà in connessione con la tua anima ti mette in connessione con la tua anima e ti fa comprendere ti fa capire ti fa capire chi sei e questo è il livello supremo dobbiamo dividere le bestie eccole qua tanto rumore ma sono dei moscerini c'è poco che mi bacia adesso e questo è sicuramente un viaggio che consiglio a tutte le persone il viaggio alla scoperta di se stessi il viaggio alla scoperta della propria anima e lì ho visto ormai sono tanti anni che faccio cerimonie grazie agli sciamani accompagno tante persone e ho visto tante persone che si sono sanate da tanti punti di vista emozionali fisici spirituali di comprensione di sé e questo è il livello massimo sono andato per gradi sono andato prima da un punto di vista fisico sono poi andato da un punto di vista mentale e emozionale e questo è sicuramente il livello più alto il livello di comprensione spirituale che ti permette di entrare in connessione profonda con la tua anima e capire che cosa ti vuole dire che cosa c'è che la mente sta oscurando perché vedi c'è un messaggio ho fatto un esempio l'altro giorno a un amico gli ho detto guarda tu sei sempre in connessione con la tua anima sempre H24 sei tu che non ascolti immagina gli ho detto di essere in piazza del Duomo a Milano e ci sono i mondiali la finale dei mondiali c'è una confusione incredibile nella piazza immagina di essere in contatto al telefono con la tua anima e tu non senti non senti e tutte quelle voci che tu vedi in piazza del Duomo che gridano è la voce della tua mente quindi non è che tu non sei in connessione con la tua anima il problema è che il rumore di sottofondo è talmente alto che non ti permette di entrare in connessione con la tua anima e quindi credo che sia arrivato il momento per tutti di fare questo salto evolutivo questo salto spirituale estremamente utile e quindi questo è il livello più alto che ti suggerisco di intraprendere se vuoi veramente comprendere chi sei al di là di quello che ti è successo e magari quello che ti è successo è un'indicazione è un'indicazione per dirti guarda che a volte il dolore arriva per farti fare un passaggio evolutivo a livello spirituale e quindi è una benedizione a volte qualcosa che vedi all'inizio come una grande maledizione può diventare una grande benedizione e quindi dire ah ok questo è il cammino che devo intraprendere a tal proposito ti lascio anche in questo caso delle indicazioni per seguire questi questi viaggi sciamanici la pianta nello specifico che viene utilizzata è la pianta dell'ayahuasca o del yage che ti permette di entrare in maniera profonda in connessione con te stesso con te stessa e capire capire finalmente come mai hai compreso in vita tua perché perché là fuori c'è un brusio enorme che non ti permette di sentire di comprendere la voce della tua anima con questo è tutto io ti saluto mi auguro che queste indicazioni ti possano essere estremamente utili hanno aiutato centinaia di persone là fuori mi auguro di sentire il tuo prossimo caso di successo anche tu mi auguro che possa comprendere che messaggio ti sta dando la tua anima per fare un viaggio in più e prenderla come opportunità lo so che in questo momento probabilmente non la vedi come grande opportunità ma piuttosto come una grande seccatura scocciatura però coglila come opportunità cerca di coglierla come opportunità di vedere il messaggio che c'è dietro cercare di capire che cosa ti sta dicendo la tua anima che cosa vuole comunicarti cerca di aprire le orecchie apri il cuore cerca di ascoltare con questo è tutto io ti saluto lasciami un commento un like iscriviti al canale condividi questo video aiutiamo quante più persone possibili a risolvere a uscire da questa situazione perché ogni persona si merita di vivere in felicità serenità pace armonia se lo meritano tutti e quindi diamo questa opportunità anche ad altre persone noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao non è ciao ora ciao non è ciao hehehe